ben tornati nel canale e ciao a tutti da me e da bianca che sta registrando stamani siamo diretti a rimini dove festeggerò lì con i miei amici l'ultimo dell'anno e proverò a studiare tutti farò un gioco veramente veramente straordinario quindi continuate a vedere il video e partiamo oggi sono con tutti i miei amici quindi fate il mondo ok voglio fare un gioco veramente stupendo quindi che ti lo posso fare franci ma guarda questa qui esaminala e farla vedere anche in telecamera vuoi vedere che è completamente trasparente vedi sempre lì dietro ok ok farla vedere anche in telecamera vedi quando l'ha fatto che me la prendi pure ho bisogno che qualcuno di voi però non preste il suo teletro a questo punto quindi o te o te e attiva la galleria e fai vedere l'ultima foto che hai fatto eccoci se puoi eh naturalmente del rullino foto ok farla vedere proprio in telecamera fai vedere che scorrendo non c'è nient'altro non c'è nient'altro nel foto che è l'ultima ok dopo di che quando hai fatto mi attivi la fotocamera ti attivo la fotocamera ok dammi pure il telefono a me le carte le appoggio un attimo qui voglio fare una foto a tutti voi quindi vieni qui in piedi te franci e reggimi la carta così mettete la mano così no proprio davanti e reggi così no no ferma ferma così ok così ok ferma così e poi un ti vuole venire qui a fermarmi quando vuole ti viene oppure mi fermi te guarda eh dimmi te stop e io mi fermo stop la carta che vuoi questa aspetta la ti lo puoi io ricordatela ok anzi la prendi e lo fai vedere pure a tutti farla vedere a tutti quando hai fatto madame vai la donna di cuori giusto si ok metto la donna di cuori qui e state tutti fermi eh magia la donna di cuori scompare e guarda l'ultima foto del tuo telefono falla vedere pure in telecamera BOOM 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 Grazie a tutti.